Un genitore che ha abbandonato il figlio per 34 anni, adesso si rifà vivo cos'è? Che deve essere a un mio figlio a comandare la famiglia. E adesso che ci siamo rincontrati, ti riprenderai? Spostati, coglione. Ma hai detto campione? Papà. Tra meno di un mese ci sarà la riunione di tutte le mafie e verrà eletto il capo dei carri. Ce n'è uno nuovo che non ho mai visto. Avete pochissimo tempo per trasformare questo fesso in un capo credibile. Don Leone, ce lo possiamo dare più vent'nilare a me? E che problema c'è? Non ce li date più. Anzi, facciamo così. Me li diamo noi a voi. No! Don Giuffita che si è pentito e la cosa finisce che feo. Dimmi. Mi scappa la cacca. Un po' del tempo per passione. Grazie a tutti